...istante Satchmo e Sakila alle prese, Satchila sopravanza Satchmo, cerca di ripiegare Siattol in bocco della prima curva, Satchmo e Sakila alle prese con Satchila che attacca... Numero 8, Saigon Dei Gretti, squalificato... Poi Siattol, Font, San Nicolas, Alca, più indietro Siesta, Capar, mentre sbaglia improvvisamente Satchmo a S, è rapido a riprendersi, intanto Sakila in vantaggio, il passaggio ai primi 400 metri in 31 e mezzo... Seconda curva, Satchila al comando, Satchmo a ridosso, poi lungo la corda Siattol, quindi San Nicolas, Alca, i 600 iniziali coperti dalla battistrada in 47 e 3 con un 16 e 2, terza frazione, passaggio di fronte alle tribune, Satchila su Satchmo, poi... Siattol, Font, San Nicolas, Alca, Siesta, Capar, Save, Silverio, Jeya, che risale... Il primo giro è andato in 1 e 3... Penultima curva, Satchila, Satchmo, Satchmo a Satchmo alla conclusione, accenna l'uscita, Satchmo a S, intanto Satchila però dal primo chilometro sul piede dell'1, 20 e spiccioli... Un bocco della retta opposta alle tribune, Satchmo al comando, Satchmo che prova l'attacco, poi Siattol e Silverio... Mezzo giro alla conclusione, Satchila copre la retta opposta in 14 e 6, Satchmo attacca con vehemenza all'esterno, Satchmo si difende, Satchmo insiste, i due si staccano in lotta... Poi Siattol che sbaglia, lascia in terza posizione... Numero 5, Siattol, Font, qualificato... C'è un 15 e 3 per la curva finale, 29 e 9 da 600 a 200, Satchmo che insiste su Satchila e prende il sopravvento a centro dal palo... Satchmo a S che nel finale passa e viene a concludere facile su Satchila... Poi Silverio, San Nicolasse, si è sta capare... Gran bella impressione per questo Satchmo a S, 1,17 e 5, 44 e 6 con 14 e 7 per l'arrivo... Dicevamo veramente una gran bella impressione per questo figlio di Daguet Rapide che veste i colori della scuderia... Gili Rida, training e guida di Gennaro Casillo... Quota al totalizzatore 1,96...